Liberio Papa Ecco, noi non sappiamo con precisione quando sia nato questo Papa che è il trentasesimo vescovo di Roma Papa della Chiesa Cattolica e successore di Pietro quindi non sappiamo se fosse nato a Roma però si presume che sia stato un diacono romano che poi sia salito al soglio pontificio Fu Papa dal 17 maggio del 352 succedendo a Papa Giulio I fino alla sua morte nel 366 Alcuni storici indicano però la fine del suo pontificato l'anno prima nel 355 al momento del suo esilio decretato dall'imperatore Costanzo II che lo volle sostituire con l'antipapa Felice II vescovo ariano Ah sì, infatti, dovete sapere una cosa molto importante All'epoca si erano succeduti tre imperatori diciamo tre figli di Costantino il Grande e quello che alla fine l'aveva spuntata sugli altri due anche semplicemente per il fatto che gli altri due erano morti prima e non sempre si moriva per cause naturali soprattutto se si era magari un erede di un impero così potente la spuntò, dicevamo, Costanzo II Costanzo II, quando era stato puramente imperatore della parte orientale dell'impero era stato sì di filo ariano, diciamo così ma in maniera piuttosto blanda quando divenne invece imperatore unico cercò di imporre l'arianesimo in tutto quanto l'impero e quindi anche arrivando perfino a perseguitare i cattolici ortodossi Vediamo un po', però adesso facciamo un po' di storia Dopo la morte di Costante I, avvenuta nel gennaio del 350 Costanzo II divenne il padrone dell'intero impero romano Quello di unire tutti quanti i cristiani era stato un progetto anche di suo padre, Costantino il Grande e quindi lo scopo era lo stesso però Costanzo II aveva un'idea diversa rispetto a Costantino il Grande Cioè Costantino il Grande aveva puntato sulla dottrina cattolica ortodossa facendosi fautore di concili in cui si affermava la dottrina trinitaria Al contrario invece Costanzo II, visto la grande diffusione dell'arianesimo soprattutto nella parte orientale dell'impero decise di puntare sull'arianesimo Il maggiore ostacolo alla realizzazione di questo progetto di unificazione di tutti quanti i cristiani sotto la dottrina ariana fu il vescovo Atanasio di Alessandria che si opponeva con forza e continuità resisteva alle violenti accuse che contro di lui lanciava l'intera chiesa d'Oriente e divenne santo anche per questo Anche il papa, quindi decisamente anche il papa di Berio si ribellava insomma a questa imposizione da parte di un imperatore che andava ad ingerirsi quindi a impicciarsi diremmo noi di faccende religiose in base al principio del Cesaro papismo cioè che chi era Cesare quindi chi era imperatore poteva anche e doveva almeno secondo il suo pensiero doveva anche occuparsi di questioni religiose anche perché effettivamente questi avevano una ripercussione politica perché lo scopo era quello quello di tenere più unito possibile l'impero tra l'altro il nostro Costanzo II doveva anche combattere contro usurpatori come un certo Magnenzio che insomma cercava di essere imperatore al posto suo Liberi a un certo punto chiese però all'imperatore di riunire un concilio ad Aquileia quindi nel nord-est dell'Italia per discutere la questione di Atanasio questo Atanasio di Alessandria praticamente divideva chiamiamola così l'opinione pubblica cristiana fra cattolici ortodossi che lo appoggiavano e ariani invece che lo volevano perseguitare Liberio si era reso conto che le accuse nei confronti di Atanasio celavano in realtà l'intenzione di colpire e demolire il credo niceno Costantino Politano e pertanto era necessario ribadirne con forza il principio e confermarlo con autorità ma le cose purtroppo non andarono come il pontifici aveva auspicato perché Costanzo II nel frattempo stava esercitando forti pressioni anche sui vescovi d'Occidente affinché condannassero il patriarca di Alessandria diventassero ariani anche loro il concilio fu riunito sì ma non ad Aquileia ma ad Arles quindi allora si chiamava la Gallia Narbonese noi adesso la chiamiamo Provenza perché lì l'imperatore aveva passato l'inverno l'imperatore voleva partecipare anche lui a questo concilio ebbene pensate che in questo concilio i vescovi i sacerdoti occidentali per non contraddire l'imperatore sottoscrissero una condanna e deposizione di Atanasio e così si infiammò ancora di più la polemica fra gli uni e gli altri fu un periodo quindi di grande divisione interna alla chiesa quello di Liberio nel frattempo Costanzo aveva inviato un emissario ad Alessandria che il 22 maggio del 353 informò al patriarca che l'imperatore era disposto a concedergli un'udienza personale ma Atanasio che non l'aveva mai richiesta Atanasio il patriarca di Alessandria che era stato riabilitato vi ricorderete da Papa Giulio I il Papa che aveva preceduto Liberio Atanasio quindi non aveva mai richiesto un'udienza personale con l'imperatore aveva magari subodorato e intuito che poteva essere un tranello e quindi non si mosse da Alessandria e aveva anche convocato un sinodo per una volta di più riaffermare la dottrina ortodossa la dottrina cattolica riuscì a raccogliere addirittura firme di 75 quasi 80 vescovi egiziani che sostenevano Liberio e sostenevano la dottrina trinitaria Costanzo a questo punto accusò pubblicamente il Papa di non volere la pace di non tener conto della lettera di accuse dei vescovi orientali Liberio rispose di aver letto la lettera dei vescovi orientali di fronte a un sinodo riunito a Roma ma di non averne potuto tener conto in quanto la lettera arrivata dall'Egitto era sottoscritta da un numero superiore di vescovi rispetto a quella degli altri vescovi orientali diciamo tra virgolette ariani quindi era impossibile condannare Atanasio lui il Papa Liberio non poteva essere in comunione con gli orientali poiché alcuni di loro rifiutavano di condannare Ario e appoggiavano il vescovo Giorgio di Cappadocia rivale di Atanasio che accettava i preti ariani i presbiteri ariani che invece i papi avevano già scomunicato da tantissimo tempo inoltre il Papa Liberio si lamentava del concilio di Arles quel concilio che era stato convocato in maniera artificiosa dall'imperatore appunto per imporre le sue idee una fase piuttosto concitata nel 355 si tenne un concilio a Milano presenziato da Eusebio di Vercelli in rappresentanza del Papa i vescovi rifiutarono l'accettazione delle disposizioni del concilio di Nicea perché erano pilotati dall'imperatore molti di essi quindi seguirono addirittura dei disordini che convinsero Costanzo a intervenire personalmente ordinò che tutti i vescovi condannassero Atanasio i dissidenti tra cui lo stesso Eusebio di Vercelli e il vescovo di Cagliari, di Milano e Ilario di Poitie Ilario di Poitie tra l'altro è un importante vescovo furono esiliati inutili le proteste di Liberio i cui legati furono a loro volta spediti in esilio il Papa scrisse una lettera insomma tutta quanta una storia concitata e per farla breve Costanzo cercò di risolvere la questione col pugno di ferro decise di mandare in esilio tutti quelli che lo contraddicevano fino al punto addirittura di esiliare il Papa il Papa era stato molto fermo nei confronti dell'Arianesimo nei confronti dell'imperatore per tutta risposta Costanzo II lo mandò in esilio e nominò al suo posto un Antipapa l'Antipapa si chiamava Felice detto anche Felice II perché c'era stato un malto prima se non sbaglio di Antipapa che era Felice I questo Antipapa in buona sostanza voluto dall'imperatore riconosciuto da vescovi non romani continuò ad essere Antipapa per 10-11 anni dal 356 al 365 d.C. L'imperatore aveva mandato in esilio Liberio poi si era pentito perché aveva visto che c'erano stati quasi dei disordini e quindi aveva deciso di far ritornare dall'esilio Liberio una fase decisamente concitata un testo di un certo filo storgio riferisce che Liberio potè però reinsediarsi completamente nel ruolo di Papa solo quando consentì a sottoscrivere una formula di compromesso elaborata dopo l'estate del 357 dai vescovi di corte cioè dai vescovi tra virgolette conniventi con l'imperatore in questa lettera il Papa rifiutava il termine homo iusios cioè della stensa sostanza del padre che era quella formula approvata dal credo di Niceno per rappresentare la natura divina di Cristo Girolamo nella sua cronaca grandissimo e importantissimo studioso della Bibbia e anche ovviamente padre della Chiesa affermava che Liberio vinto dalla noia dell'esilio dopo aver sottoscritto questo testo che accettava in un certo senso l'eresia rientrò a Roma in trionfo anche la prefazione al Liber Precum il libro delle preghiere parlava della sua quasi tolleranza dell'eresia Attanasio verso la fine del 357 scrisse addirittura Liberio dopo essere stato esiliato tornò dopo due anni e per paura della morte con la quale fu minacciato firmò cioè firmò questa abiura diciamo alla dottrina cattolica ortodossa Ilario di Poitiers in un'opera del 360 scriveva a Costanzo io non so quale sia stata l'impietà più grande se il suo esilio o la sua restaurazione cioè Ilario di Poitiers ipotizzava che era stato più empio l'imperatore quando aveva fatto di fatto liberato il Papa dall'esilio ma l'aveva costretto appunto a sottoscrivere quel documento tollerante nei confronti degli ariani tutt'oggi si tratta di una questione piuttosto controversa soprattutto riguardante la vera e propria formula a cui Liberio aderì sottoscrisse firmò poiché non abbiamo informazioni sufficienti per decidere se la formula fu accettata in un modo piuttosto che in un'altra abbiamo due versioni infatti comunque sia che sia stato costretto oppure no sta di fatto che la figura di Liberio dopo questa vicenda risulta un po' compromessa avendo di fatto rinnegato se stesso e il suo passato di coerenza si trattò di una vera e propria caduta adesso però parliamo di una cosa di cui abbiamo già parlato in una delle dirette recenti cioè la fondazione della basilica di Santa Maria Maggiore a Roma si narra infatti che il 5 agosto del 358 ci fu una miracolosa nevicata sul colle Esquilino e quindi il Papa Liberio come vedete in questo dipinto ad esempio di Masolino da Panicale oppure anche in questo di Mattias Grunewald traccia sulla neve il perimetro di quella che sarà la chiesa liberiana anche detta basilica liberiana dedicata a Maria che poi diventerà un secolo dopo grazie al Papa Sisto diventerà una chiesa molto molto più grande è una delle quattro basiliche principali di Roma si tratta ovviamente di una leggenda però può essere giusto e corretto dire che la prima chiesa che poi più piccola diciamo sulla quale poi sarà fondata la basilica del Papa Sisto sia stata effettivamente voluta da Papa Liberio poi ovviamente è un po' leggendario che davvero abbia nevicato a Roma il 5 di agosto Papa Liberio morì il 24 settembre 366 e fu sepolto nelle catacombe di Priscilla altri video didattici su a tuttascuola.it 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 a tuttascuola.it